Tempo di video a Night and Day, tempo di indipendente, il progetto firmato Rotary che ha coinvolto numerosi ragazzi della provincia di Belluno nella realizzazione di filmati, video, tributi per la causa comune, cioè la lotta all'abuso di alcol in età adolescenziale. La nostra provincia è famosa purtroppo anche per questo gravissimo problema, ma ci sono molti giovani coscienziosi che stanno crescendo e molti di loro hanno buonissime capacità a livello proprio di montaggio e di concept, di idee e di campagne che hanno realizzato appunto questa serie di video interessantissimi. Noi vi facciamo vedere il quattordicesimo, la seconda scuola di primo grado, secondaria di primo grado. Allora è la seconda scuola secondaria di primo grado, ma perché non le chiamiamo le medie? Vabbè, Limana. Allora è la seconda scuola di primo grado, ma perché non le chiamiamo le medie? Vabbè, Limana. Allora è la seconda scuola di primo grado, ma perché non le chiamiamo le medie? 考are il mio grado, ma perché non le chiamiamo le medie? Vabbè, Limana. IRAN ANGAD DP Grazie a tutti.